Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi arrivano degli spunti che non li considerate ma ricordatevi per il futuro da tutti con cui hanno parlato oggi in cui sarà molto fondamentale perché vi serviranno poi il futuro. Sinergia è la cosa fondamentale a strati di livelli a seconda del prodotto dove si può trovare sul mercato. Probabilmente un attimino il tema era bellezza, lusso e modernità. Una cosa molto importante è che il prosecco arriva dalla storia dei nostri avi ed è un prodotto agroalimentare che è soggetto al cambiamento in quanto si beve anni dopo anni, si beve sempre. Probabilmente è un prodotto molto moderno rispetto a tante altre cose industriali in quanto l'annata identifica un anno e il prodotto viene poi messo in commercio. Moderno probabilmente è proprio questo, cioè è un prodotto che viene riconosciuto dalle persone in questo momento in tutto il mondo, soprattutto quello che è il prodotto prosecco di collina dell'alta marca che comprende Valdobbiadene, Conegliano e Dasolo. Una cosa in ultimo, il lusso. Che cos'è il lusso nell'agroalimentare? Non è connesso tanto al costo del prodotto in se stesso ma nel lusso dell'agroalimentare è connesso in quanto è un fabbisogno umano per cui si beve e si mangia come agroalimentare. Il vino deve essere come il lusso al giorno d'oggi buono, genuino e tipico e deve uscire un attimino dalla standardizzazione di tutti i prodotti che ci sono.